Forse il vero risultato a cui il signor Palomar sta per giungere è di far correre le onde in senso opposto, di capovolgere il tempo, di scorgere la vera sostanza del mondo al di là delle abitudini sensoriali e mentali, no, egli arriva fino a provare un leggero senso di capogiro, non oltre. L'ostinazione che spinge le onde verso la costa ha partita vinta. Di fatto si sono parecchio ingrossate, che il vento stia per cambiare? Guai se l'immagine che il signor Palomar è riuscito minuziosamente a mettere insieme si sconvolge e frantuma e disperde, solo se egli riesce a tenerne presenti tutti gli aspetti insieme, può iniziare la seconda fase dell'operazione, estendere questa conoscenza all'intero universo. Basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire. Il signor Palomar sa lontana lungo la spiaggia, coi nervi tesi, com'era arrivato, è ancor più insicuro di tutto. Se il signor Palomar facesse uso di un telescopio, le cose sarebbero più complicate sotto certi aspetti e semplificate sotto altri. Ma, ora come ora, l'esperienza del cielo che interessa a Lui è quella a occhio nudo, come gli antichi navigatori e i pastori arranti. Occhio nudo per lui, che è miope, significa occhiali, e siccome per leggere la mappa gli occhiali deve toglierseli, le operazioni si complicano con questo alzare e abbassare degli occhiali sulla fronte e comportano l'attesa di alcuni secondi prima che il cristallino rimetta a fuoco le stelle vere e quelle scritte. Sulla carta i nomi delle stelle sono scritti in nero, su sfondo blu, e bisogna accostare la lampadina accesa proprio addosso al foglio per scorgerli. Quando si alza lo sguardo al cielo lo si vede nero, cosparso di vaghi chiarori, solo a poco a poco le stelle si fissano e dispongono in disegni precisi, e più si guarda più se ne vedono affiorare. Se sulla terrazza si posano uccelli diversi dai piccioni, il signor Palomar, anziché cacciarli, da loro il benvenuto, chiude un occhio su eventuali guasti prodotti dai loro becchi, li considera messaggeri di divinità amiche. Ma queste apparizioni sono rare. Una pattuglia di corvi qualche volta si avvicina, punteggiando il cielo di macchie nere, e, propagando, anche il linguaggio degli dèi cambia coi secoli, un senso di vita ed allegria. Poi qualche merlo gentile e arguto, una volta un pettirosso, e i passeri nel solito ruolo di passanti anonimi. Altre presenze dipennuti sulla città si lasciano avvistare da più lontano le squadriglie dei migratori in autunno e le acrobazie d'estate di rondoni e balestrucci. Ogni tanto dei gabbiani bianchi, remando l'aria con le lunghe ali, si spingono fin sopra il mare asciutto delle tegole, forse sperduti risalendo dalla foce le anse del fiume, forse intenti a un rito nuziale, e il loro grido marino stride tra i rumori cittadini. La terrazza è a due livelli, un'altana o belvedere sovrasta la baraonda dei tetti su cui il signor Palomar fa scorrere uno sguardo da uccello. Cerca di pensare il mondo come visto dai volatili. A differenza di lui gli uccelli hanno il vuoto che s'apre sotto di loro, ma forse non guardano mai in giù, vedono solo ai lati, librandosi obliquamente sulle ali e il loro sguardo come il suo, dovunque si diriga, non incontra altro che tetti più alti o più bassi, costruzioni più o meno elevate, ma così fitte da non permettergli di abbassarsi più di tanto, che là sotto incassate esistano delle vie e delle piazze, che il vero suolo sia quello a livello del suolo. Lui lo sa in base ad altre esperienze. Ora come ora, da quello che vede di quassù, non potrebbe sospettarlo. Quando un moscerino passa vicino alla gola del gecko, la lingua scatta e inghiotte, fulminea e duttile e prensile, priva di forma e capace di assumere ogni forma. Comunque Palomar non è mai sicuro se l'ha vista o non l'ha vista. Ciò che certamente vede adesso è il moscerino dentro la gola del rettile. Il ventre, premuto contro il vetro, illuminato, è trasparente come ai raggi X. si può seguire l'ombra della preda nel suo tragitto attraverso le viscere che l'assorbono. Se ogni materia fosse trasparente, il suolo che ci sostiene, l'involucro che fascia i nostri corpi, tutto apparirebbe non come un aleggiare di veli impalpabili, ma come un inferno di stritolamenti e ingerimenti. Forse in questo momento un dio degli inferi, situato al centro della terra, col suo occhio che trapassa il granito, sta guardandoci dal basso, seguendo il ciclo del vivere e del morire. Le vittime sbranate che si disfanno nei ventri dei divoratori, finché a loro volta un altro ventre non li inghiotte. ok